Ciao e benvenuti a The Palette, il podcast International of Slender che parla dell'apprendimento e l'insegnamento delle lingue. Io sono Laura e oggi parlo con Giada, la nostra direttrice di lingue straniere e insegnante d'italiano. Parliamo della bellissima regione delle Dolomiti. Ciao Giada, come stai? Ciao, ciao Laura, tutto bene, tu? Sì, bene, bene, grazie mille, sì. Allora, oggi parleremo delle Dolomiti, una catena di montagne nel nord Italia. Giada, tu hai visitato la regione molte volte, ci può offrire una bella introduzione alla zona? Sì, certo. Allora, le Dolomiti, come hai detto tu, Laura, sono questa catena di montagne nel nord-est d'Italia e in realtà toccano tre regioni diverse, il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Io sono stata solamente nelle Dolomiti Venete che vengono anche chiamate Dolomiti Bellunesi perché fanno parte della regione di Belluno, dalla provincia di Belluno, non della regione, e sono patrimonio dell'umanità, proprio per la bellezza, per l'esercistica che hanno. Queste montagne sono incredibili e si possono fare tantissime cose, ma veramente hanno uno spettacolo meraviglioso. Il nome deriva da la roccia che forma queste montagne che si chiama Dolomia e c'è qualcosa di veramente particolare che succede quando c'è il tramonto e l'alba e il sole va a proprio toccare queste montagne, si va a creare un colore tipo rosato o rosso, un fenomeno particolare che dicono che valga la pena vedere. Io non l'ho ancora visto, però sicuramente vorrei vederlo il primo possibile. Immagino che ci sono dei bellissimi paesi montuosi lì, vero? Sì, 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 ci sono tantissimi paesi o paesini, i paesi di montagna sono un po' più particolari, un po' più piccoli, molto caratteristici, di solito hanno tante case in legno e Cortina è la più famosa, il paese più famoso direi perché Cortina è famosa sia per lo shopping che appunto per visitarla, non ci si mette molto a visitare Cortina e poi una cosa molto interessante è che Cortina nel 2026 sarà la sede, una delle due sedi, delle Olimpiadi Invernali. Ah, è vero! Milano e Cortina saranno appunto, ospiteranno le Olimpiadi Invernali del 2026, quindi adesso c'è una grandissima preparazione per questa cosa, questo evento che è ovviamente un evento mondiale. Certo, allora lo sport, allora per quanto riguarda le attività, cosa si può fare allora nelle Dolomiti? Direi che dipende molto dalla stagione, in inverno chiaramente nelle Dolomiti essendo delle montagne si può sciare o andare con lo snowboard, andare con lo slittino che è molto divertente anche se può essere pericoloso, te lo dico per esperienza e poi perché no dopo lo sci si può andare in uno spa, fare una sauna, un bagno turco, ammirare le montagne mentre mentre vai alla spa che è spettacolare e poi in estate sicuramente fare passeggiate, escursioni ai rifugi, ovviamente mangiare anche. Certo, come sempre, come sempre. Allora secondo te qual è il miglior periodo dell'anno per andare nelle Dolomiti? Secondo me dipende da quello che una persona vuole fare, devo essere sincera io sono stata in montagna per la prima volta che mi ricordo perché ero stata quando ero piccola ma sono stata l'anno scorso per la prima volta a sciare, quindi ho provato l'emozione di imparare da zero come principiante assoluto a sciare. L'inverno va, è spettacolare per vedere la neve, per sciare e l'estate anche è bellissima perché tanta gente va in montagna in estate per scappare dal caldo della città. Certo. Sei immerso nella natura quindi in estate sicuramente puoi fare tantissime passeggiate, puoi fare ferrate, quindi io direi in tutte le stagioni basta scegliere cosa si vuole fare. Allora è il luogo perfetto. Esattamente sì. Hai detto che un'attività importante è mangiare nelle Dolomiti, allora come ogni parte d'Italia immagino che ci siano dei piatti e bevande tipiche nelle Dolomiti. Sì 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 assolutamente, allora come piatti la cucina delle Dolomiti è una cucina un po' più consistente, generalmente è tipico della cucina della montagna essere un po' più pesante, tra virgolette. C'è un piatto in particolare che si chiama canederli, i canederli. Canellerli. Hai mai sentito? No. Canederli. Ok è un po' difficile da pronunciare. Sì i canederli sono una specie di gnocchi ma sono molto molto grandi, sono grandi tipo così. Davvero? Sono grandissimi sì e sono fatti con il pane raffermo ok e altri ingredienti, poi ci sono diverse versioni, magari puoi metterci dello stack, lo stack è molto simile al prosciutto quindi sai per darle un po' più di sapore e possono essere serviti in brodo o con dei condimenti diversi e sono proprio tipici delle Dolomiti, delle montagne in generale. Poi sicuramente tanti salumi, tanti formaggi che vengono prodotti proprio nelle Dolomiti e da bere, lo tipico in inverno è il bombardino. Il bombardino ok, cos'è esattamente? Il bombardino è perfetto per quando vai a sciare, quindi vai a sciare ok, sali su per la montagna, dopo che hai sciato per mezza giornata hai bisogno di un po' di carica e quindi puoi prenderti questo bombardino. Il bombardino è una specie di cocktail. Ah sì? Perché è fatto con lo zabaione e il brandy. Ah ok, proprio forte allora. Sì è forte, è forte, infatti è piccolo, è così, viene servito con la panna sopra e poi l'idea è che proprio fai uno sciottino al volo, per darti la carica di cui hai bisogno per poi scendere giù a sciare. Esatto, per avere più di energia, no? Esatto, l'energia è anche per scaldarti un po', perché in inverno hai bisogno di un po' di calore, no? Esatto. E allora per finire, per chi vuole visitare le Dolomite, come si può arrivare lì? Allora devo essere sincera, è un po' complicato nel senso che non è molto ben collegato come come posto. Ovviamente quando parliamo di Dolomiti noi parliamo di una zona molto ampia, quindi in realtà dipende dalla città che una persona vuole visitare, dal posto dove vuole andare. Però l'aeroporto più vicino, se ad esempio una persona vuole andare nelle Dolomiti bellunesi, le Venete che dicevamo, è Venezia. Ok. Ma quando dico vicino poi in realtà guardi i chilometri e sono più di 200 chilometri. Ok. Quindi è un po' lontano, non è così facile. Poi ovviamente da Venezia c'è l'autostrada, quindi con la macchina si arriva a Belluno e poi da lì però non c'è più l'autostrada per andare più in su, ci sono strade normali e questo è il problema della montagna, no? Che ovviamente le stradine sono un po' più piccole. Quindi direi che è essenziale avere una macchina per girare al meglio intorno alle Dolomiti, perché ti permette di visitare dei posti che altrimenti con i mezzi pubblici non riusciresti. Se le trovo difficile penso. Sì, sì, sicuramente. Anche se però durante la stagione sciistica, la stagione invernale, ci sono collegamenti interni tra le città e soprattutto alle piste da sci e quindi ci sono degli autobus che vengono forniti nella zona. Io ad esempio andrò proprio nelle Dolomiti a Natale, ho prenotato l'altro giorno, andrò a Sesto e quindi l'hotel mi ha proprio detto che come parte dell'offerta dell'hotel loro forniscono questa carta che ti permette di andare in giro da una pista ad un'altra con un autobus, quindi è molto comodo in questo senso. Ok, ok. Quindi ci vuole investigare un po', cercare l'informazione prima di viaggiare. Esattamente, sì, sì. E poi è importante prenotare molto in anticipo perché la montagna può essere molto costosa. Sì, specialmente per Natale. Sì, sì. Specialmente per Natale o comunque il periodo delle feste natalizie. Certo, certo. Ok, allora grazie mille Giada per averci parlato di Dolomiti e sicuramente parleremo ancora molto presto. Perfetto, grazie a te allora. Grazie Giada, arrivederci. Buona giornata. Ciao. Ciao, ciao.